Un saluto dall'Etigi della mobilità. Iniziamo da via di Torrevecchia, cantiere all'altezza di via Provenzale. Sono deviate le linee di bus 46, 49, 546 e 907 e di notte la N46. Danneggiamento della rete aerea di alimentazione elettrica. La linea tramviaria 2 continua ad essere sostituita da bus lungo tutto il percorso, mentre le linee 3 e 19 sono state ripristinate. Cedimento del manto stradale su via Latina, all'altezza di largo della Caffarelletta. A spostarsi sono tre linee di bus 87, 628 e 665. La linea 87, lo ricordiamo, è deviata anche per lavori a via Baccarini. Ci fermiamo qui. Tutti gli aggiornamenti su romamobilità.it Grazie a tutti. Grazie a tutti.